In questa puntata, approvato il rendiconto generale per il 2022, stazioni sciistiche avanti con il sostegno al sistema neve. Medioevo nel borgo, dove il passato ritorna presente. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022 della Toscana, inserendo gli emendamenti della Giunta regionale che vanno a sanare il rilievo fatto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della regione su questo rendiconto 2022 e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per i relli generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti, con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte e in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia l'equilibrio della spesa, per intenderci fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a un miliardo e 400 milioni di euro, solo sette anni fa era più del doppio. Quindi uno sforzo importante, una gestione attenta che dimostra come le risorse finanziarie della regione toscana vengono spese con attenzione e oculatezza. C'è il tema della spesa sanitaria che ovviamente la vicenda pandemica ha cresciuto, rispetto a questo il Fondo Sanitario Nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie, tant'è che nel 2022 la regione toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo, cioè il bilancio soprattutto nei rapporti con le ASL e quindi in ambito sanitario non è assolutamente trasparente, è un bilancio quello della regione molto rigido, siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità e in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade, una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita. Quindi davvero una situazione molto confusa per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere botta e che non sia di previsione per un aumento delle tasse perché gli uffici in Commissione Controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in regione Toscana è ferma dal 2013 e con l'aumento tendenziale delle spese compresa anche la crisi energetica probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. Sì, Italia aveva votato a favore, rendi conto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione Toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico, abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare l'addizionale IRPEF, senza aumentare il bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi è una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo non fosse altro perché sono reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario dove la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo di mutui che poi vengono a finanziare investimenti sul perimetro sanitario che però scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. La Giunta Toscana doveva proseguire nel percorso di confronto con il Governo per arrivare alla predisposizione di piani straordinari di intervento finalizzati a prevedere meccanismi di aiuto e sostegno statale da destinare al sistema produttivo delle stazioni sciistiche della Toscana. Quinto inverno più caldo dal 1800, il secondo più caldo dal 1955. Questo ci ha detto il LAMMA in Commissione Are Interne dove abbiamo fatto un confronto a tutto campo con i sindaci, gli operatori del settore, il LAMMA e gli assessori regionali. Per le stazioni sciistiche che sono sull'Appennino della Toscana ma più in generale su tutta la dorsale appenninica in Italia lo scenario vedendo la sede storica è chiaro. La stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio e lungo termine. Il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico diversificando l'offerta turistica, potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. Noi non possiamo andare giorno per giorno dietro all'emergenza di fronte a uno scenario che ormai è chiaro. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio e lungo termine che hanno bisogno di investimenti e per quello che noi chiediamo al Governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni scistiche appenniniche. Allo stesso tempo ovviamente abbiamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni. Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico ma non così grave come viene raccontato alla narrazione ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi cento anni, quindi questo è evidente. Se questo è vero io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative da andare in montagna, lo scialpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianto di risalita e per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici perché alla betone, alla miata non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce, quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Noi abbiamo difficoltà perché gli impiantisti, le stazioni invernali possono sparare una, al massimo due volte, due cartucce in una stagione perché poi finisce l'acqua e non ci sono più le disponibilità. Quindi la regione se vuole difendere il sistema neve, se vuole difendere l'industria della neve deve investire nel nevamento artificiale, deve investire soprattutto nei bacini idrici. Per armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche serve uniformare gli impianti di risalita, serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischi di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve. Un po' come deve avvenire sulle terme, così con la montagna la Toscana deve uniformare e standardizzare a mio avviso le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. Quindi con questa proposta di risoluzione si chiede che la Giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste comunità dove si scia e inoltre anche si chiede al Governo che porti avanti un decreto sugli appennini, sembra che ci siano tanti soldi in ballo, non si sa bene come verranno destinati sia a tutti gli appennini o solo alle località sciistiche. Diciamo che noi siamo favorevoli a questa proposta perché un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici, io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali, attività di noleggio, tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia e quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere perché non si possono far spopolare questi territori. E prima di pensare a nuovi risorsi, a nuovi stanziamenti vorrei fare una domanda che finora è stata in evasa da questa Giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi. Sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale e questo comporta dispendio di denaro pubblico che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è sono stati soldi ben spesi, si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa. Per fare un salto nel 1300 non resta che aspettare il secondo fine settimana di agosto per una tre giorni nel castello di Rocca Tederighi, nel comune di Roccastrada. Siamo davvero onorati di poter ospitare questo evento bello, importante, un evento che vede davvero migliaia e migliaia di visitatori venire a conoscere uno dei borghi, dei luoghi più belli della nostra regione. La Toscana è fatta di tante iniziative che ne raccontano la sua storia, i suoi valori, la sua identità e sapere che queste iniziative, e in questo caso in particolare ci riporta nel 1300, vede tanti turisti, tanti cittadini venire a conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, ma anche la bellezza di un borgo come quello di Rocca Tederighi mi dà il senso davvero dell'idea di una ripartenza, di una ripartenza che c'è stata e che noi viviamo con l'auspicio che possa continuare sempre così, anzi queste iniziative possano attirare ancora più turisti nei nostri territori. Dopo alcuni anni di fermo torniamo, speriamo alla grande, in questa manifestazione cercando di mantenere il vecchio format perché era un format funzionante, ma introducendo alcuni elementi che si spera portino migliorie. La prima novità riguarda proprio la location, lo scenario che è stato recentemente riqualificato domenica scorsa come amministrazione abbiamo inaugurato Via della Torre che è la via centrale del borgo di Rocca Tederighi e anche il cuore nevralgico del Medioevo nel borgo. Grazie a tutti.